amici romanisti di calcio pazzo lo sport preferito da tutti i club di serie A o comunque quelli che sono interessati ai nostri giocatori è quello di provare a mettercelo in culo perché perché sanno che comunque abbiamo un bisogno disperato di soldi e dobbiamo cedere dei calciatori da qui a fine mese e quindi sapendolo giocano a ribasso che è una cosa giustamente che se fa però sai un conto è cercato di ottenere uno sconto un conto fa gli stronzi perché come ho già detto precedentemente nelle mie varie considerazioni quando faccio i video quelli di rassegna stampa sul mercato ho sempre detto ci sta che tu un giocatore come Geko per esempio vuoi ottenere uno sconto perché comunque è un calciatore che c'ha una certa e però sai che c'è che se tu gli offri 6 milioni lo stai valutando come un calciatore che c'ha una certa ma che è fondamentale non pensi dai 6 milioni così al primo stronzo che capita ok e poi però non mi puoi venire a chiedere a me cioè a chiedere a me a offrire a me 13 milioni perché è evidente che mi stai prendendo per il culo ok bisogna quanto meno cercare di venire se incontro la Roma se non sbaglio chiede 23 loro offrono 13 venimose incontro almeno a 19 perché de meno veramente cioè comunque stiamo parlando di un calciatore che è in grado di fare parto da solo ok un calciatore che è fondamentale nell'economia del gioco d'attacco di una squadra non lo so io non so voi che ne pensate ma a prescindere spogliatevi un attimo dal fatto di essere romanisti o anti romanisti eccetera ma 13 milioni per Geko è un insulto all'intelligenza umana e ste paraculate sinceramente io non le accetto va bene secondo discorso mano l'as allora caro il mio ADL che fai il fenomeno no la Roma deve abbassare innanzitutto deve che cosa deve un cazzo cioè non è che sei tu che decidi che la Roma deve abbassare c'è una clausola ok ce l'hai i soldi per pagare la clausola sei d'accordo col calciatore bene questa è la prima parte mi sono messo d'accordo col calciatore lui ci verrebbe gli do 3 4 quanto cazzo gli vuoi da a questo punto c'è una clausola ce li hai i soldi per pagare ti prendi il giocatore non ce li hai te ne vai a fanculo questo è il messaggio ok oppure non è che chiedi uno sconto diceva bene proviamo a parlare di scambio a livello tecnico ok va bene al giocatore lo decida a Roma non decidi te non decidi allora che ti posso dire ti do un e me dai 10 oppure te do diavara e me dai non funziona così vuoi il giocatore ti interessa vuoi fare la coppia centrale difesa più forte del mondo bene c'è dai i soldi quello che serve sull'unghia allora te lo prendi questo è il mio messaggio non mi vengano insurta i tifosi napovedani sotto io sto facendo un ragionamento che non fa una piega lo farei per qualsiasi altra squadra anche se manolasse giocasse archievo c'è una clausola sono stati fatti apposta i contratti con clausola perché se tu ti metti d'accordo col cacciatore paghi la clausola ed è tuo cacciatore finisce non c'è stata di scusa c'è stata di deve abbassare deve un cazzo terzo punto luca pellegrini allora caro il mio chi sei petraghi non lo so a chi mi rivolgo allora cerchiamo di fare un discorso coerente perché noi accettiamo tutto come lo vedi stiamo accettando veramente di tutto penso veramente il tifo della roma è un highlander un eroe allora ci avete smontata la squadra perfetto a che cosa possiamo credere noi vogliamo fare il progetto giovani facciamo sto cazzo di progetto giovani non vinceremo un cazzo ma tanto non vincemo un cazzo comunque però almeno ci fai capire che voglio fare una squadra dei giovani che magari fra tre quattro anni come fece la sampedoria tantissimi anni fa che poi alla fine del quinquennio arrivò lo scudetto ok luca pellegrini è uno dei giovani più interessanti se non il più interessante nel suo ruolo che è quello di tersino sinistro ok tra l'altro nel mondiale lì under 20 ha dimostrato di giocare anche bene al centro campo quindi volendo anche polivalente ma va bene diciamo tersino sinistro ruolo in cui la roma rimarrebbe scoperta perché io consiglio consiglio è normale che se a roma deve cede qualcuno in questo momento cede magari i più anziani o quelli con il contratto più pesante parlo a livello aziendalistico e non a livello tifoso ok perché io non cederà nessuno quindi magari cede dgeco e coro perché hanno superato i 30 perché magari sono appetibili e perché magari cedendo quei due riesci a fare la somma che ti serve per appianare questa situazione se tu c'è se tu c'è di luca pellegrini poi a chi a juventus e allora sei una testa di cazzo allora non hai capito niente c'è allora oltre che cornuti pure mazziati allora basta di che cazzo stanno facendo poi non ci vedi a piacere per culo col progetto giovani e i giovani con chi quello è uno dei giovani più interessanti è vero che sta coraio là sotto e quindi ci sta sempre sta spina nel fianco sto dito nel culo come lo vogliamo chiamare e chiaramente quello prova sempre a fargli cambiare club ma se tu stai una società forte dici ok i giovani non si toccano cazzo almeno per tre quattro anni se no basta se no camminateci addosso con caterpillar che ne so io veramente non so più cioè non vedo a parte ancora non ho capito se Petraghi lo presentano o non lo presentano io non so più veramente che cosa pensare l'allenatore mormina annunciato giampaolo presumo che fra qualche giorno faccia la due tre giorni venga presentato la juve domenica annunciato sarri oggi è giovedì l'hanno presentato e chi altra insomma dall'annuncio poi passano pochi giorni e c'è la presentazione quando era dieci giorni fa o qualcosa in più annunciato fonseca tapio visto ma era vera ma neanche tra l'altro nel frattempo ci ha ripensato non lo so poi se ne sa più niente se ne sa più un cazzo sparito se ne parla solo nei giornali così la roma giocherebbe così poi fonseca ha detto una dichiarazione niente quando presentiamo a luglio fama agosto fama settembre non lo so vabbè le perplessità sono tante io vi ho dato qualche argomento di discussione gradirei parlarne insieme a voi quindi scrivetemi sotto io poi vi rispondo e andatevi a vedere i video fatti oggi un video su giampaolo un video su sarri dove dico la mia anche un video abbastanza ironico divertente alla maniera di calciapasso vabbè raga un saluto e sempre caccio paccio